4, 3, 2, 1, vai, vai, 100, alle piante, sinistra 5, per destra 5, 5 questa, 5 questa, per destra 5, 100, destra 5, bravo, 100, sinistra 6 questa, 6, 6, 100, destra 2 qua, 2 questa, 2 questa, 2 questa, 200, sinistra 2, al palo là, sinistra 2 qua, al palo, piano un po' più che le, ah, 2 questa, 50, al palo, destra 6, 6, 6, 6, 6, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 100, sinistra 6, per destra 6, sinistra 6, po' tocca le due, va, va, la cammina, destra 6, attenzione le piante qua, sinistra 2, 2 questa, 200, 100, scusami, sinistra 6, per destra 2, ah, lo so, che ne interferisce su, per destra 5 qua le piante, sentito adesso, in sinistra, in sinistra 6, in sinistra 6, in sinistra 6, ma basta più, arriva più, ah, lo so, 50, sinistra 6, ma basta, più, ah, lo so, 5, ma basta, adesso, 5, ma basta, destra 2 qua, attenzione 2 di questa 200 alle vigne sinistra 5 brava mia destra 5 ma non è un più ah non è un più 50 sinistra 6 scusa questa vai Bang la turbina 100 destra 2 qua 2 questa dove ho più il turbo eh no qua non va più sento più vedete arrivar fuori la la fuma la fuma no si si la fuma fumela che qui questo è un po' un arde che fa passare quello del rio ben controllato a spero, se arriva anche l'altro beh beh, non so me se ti senti, ma che è partito il turbo qua, siamo andati a andare fuori dalla prua siamo andati a andare a piazza, siamo andati a andare fuori si, no, eh, si è lo qua? si, farlo passare va a sinistra, quello è qua del rio abbiamo controllo il spie del rio non è assaro? non è assaro? non è assaro? non è assaro? è che credo, non va a piazza è un pochettino sì grazie a tutti grazie a tutti